E così alla fine il serpente è uscito dal suo buco. Sei pronto ora, fratello? Perché mi chiami fratello? Si può sapere chi diavolo sei. Io sono te, sono la tua ombra. Cosa? Chiedi al padre che hai ucciso. Ti spedirò a incontrarlo all'inferno! Chiedi al padre che hai ucciso. Sì, sì, sì. 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 Grazie a tutti. Ci vediamo all'inferno, Liquid. E questo risolve il problema della cremazione.